Tutti noi che facciamo sport ringraziamo. Tutti gli ospiti hanno quindi parlato della loro vita e della loro carriera prima, durante e dopo i successi, in particolare il loro impegno per contribuire a cambiare la mentalità attorno sia alla vita sportiva sia alla vita quotidiana, lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole, l'impegno quotidiano per inseguire un obiettivo, l'importanza della squadra e dello sapere stare in squadra. La mostra, oltre il sogno, fra ricordi, maglie, immagini, cimeli, filmati, foto, trofei, promossa dal Comune di Fusignano, dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dalla Regione Emilia Romagna e realizzata in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, rimarrà aperta fino al 7 novembre 2021.